Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR, il video di oggi sarà un video collection della serie collection in cui prendo tutto ciò che ho di una determinata categoria e vi lo mostro, però questa volta parliamo di fumetti, quindi forse è un argomento quasi mai affatto sul canale, in un po' di video sì, però abbastanza raramente vi farò vedere cosa non è niente di che, non è tanto, anzi veramente poco e per lo più sono cose che risalgono ad anni fa, vi farò vedere tutto, quindi addirittura le cose di quando ero piccola piccola e poi soprattutto durante il liceo ho avuto un periodo in cui mi sentivo un po' più appassionata, ad oggi è più raro che io ne compri, ma succede ancora, infatti mi devo dire anche qualcosa di preso nei ultimi anni, e niente, non sono convinta che l'argomento possa interessarvi, però io il video me lo registro lo stesso, sperando possa piacere almeno a qualcuno. ovviamente so di non essere una collezionista, di non essere un'intenditrice e di saperne veramente poco, faccio questa premessa anche perché mio papà è un grande appassionato di fomenti e quindi io mi rendo conto di avere una conoscenza pari a zero del fomento in confronto a lui, cresciuta in una casa, piazza e un pa' di fomenti, quindi mi sento una e ha migliorato una rispetto alla generazione precedente, ma vabbè. Infatti a proposito il ultimo momento che ho letto si chiama, si titola sempre pronti e non ce l'ho qui fisicamente perché è stata, i momenti che mi preoccupa, prima l'ha fatto leggere lui, già me l'ha prestato lui, è un momento il cui argomento principale è l'esclosione sociale di una bambina, ragazzina, più bambina che ragazzina, che per volersi sentire al pari con le altre va a fare un campo, un campo scout, lei è di origini russo, quindi va a fare un campo russo per scout, più o meno, e niente da che aveva delle aspettative altissime, perché queste aspettative vengono molto 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 ridimensionate e deluse, e mi ha fatto riflettere, mi è piaciuto, l'ho detto un grande piacere, me lo sono divorato perché è alto, e quindi quello per me è straapprovato. Ma passiamo adesso a cosa fisicamente qui, Allora, abbiamo un po' di fumetti di quando è piccola, ma a cui mi sento ancora molto legata, che sono questi delle wix, qui si capisce, si deduce la vecchiaia, perché ad oggi non credo che ci siano bambine che leggo i fumetti delle wix, e io li adoravo per la grafica, infatti fino a quest'estate ho letto l'ultima volta un fumetto delle wix perché hanno fatto delle ristampe, e io li ho tutti e tre, però non li ho qui, li ho a Roma, quindi oltre a ciò che vedrete in questo video ci sono i tre volumi dei fumetti delle wix e tre volumi dei fumetti delle wix, di volumi, diciamo, che mettono insieme queste cose in un formato diverso, questi delle wix, quindi i giornali delle wix dei tempi, messi insieme dei volumetti, quindi ne ho tre di quella collana, tre delle wix e un altro delle wix che è uscito per i vent'anni, e anche quello con la storia originale, la prima in assoluto, e quindi con la stella che va a trovare i blum sulla terra, i blum riscopa di essere una fata, eccetera eccetera. Comunque, io quasi non ho assolutamente intenzione di buttarli perché questo però è un po' infanzia, buca, e non potrei mai buttarli, qui, abbiamo un po' infanzia, e abbiamo dei numeri random, il pesti il 52, tutti diventano 12, perché vedete, mamma почta ce l'avevo, vedo anche le pubblicità, i giochi per il Nintendo, questo è un Nintendo DS, quindi a oggi, sicuramente, si facevano questi spettacoli qua, si facevano le cose che ho oggi, lo fanno vedere, e tutto urla anni 2000 in queste foto, cioè in questi giornalini, anche le pubblicità, le cose per come sono scritte, niente ragazzi, è una specie di tuffo nel passato, quindi abbiamo questo il 52, poi il 55, nel frattempo all'interno c'erano pubblicità, consigli d'amore, adesivi di così male, in più io adoravo assolutamente questa grafica fatta così, proprio il disegno, infatti questa storia l'ho recente riletta perchè era parte di uno dei tre volumi di cui ho parlato delle Winx, e che comunque se mi seguite avete visto in passato perchè si vedono nel video al Playlibreria, cioè io fingo di rientrare nel video al Playlibreria, anche questa ce l'avevo, questa bombola di blu, noi abbiamo il numero 59, vedete urla tutto troppo, ha domila in questi questi, in questi, con il volume, il numero 66, queste aree vinti ce li ho, ce li ho ancora da qualche parte, tutti, ragazzi io ho da sempre una meccanita delle bruse, vedete tutto è un salto indietro nel tempo, poi abbiamo il 93, questa è la versione Halloween, il numero 92, che andrebbe prima del 93, sempre versione Halloween, il numero 101, sono un po' random, però diciamo che questi sono quelli che ho, di questa collana, per cui pagherei oro, pagherei assolutamente oro per avere questa collana, infatti ogni volta che escono i volumi celebrativi, io li compro sempre, si, questi sono quelli delle Winx, poi ci sono storia fumetti di Minnie e Daisy, questo risale al periodo delle medie, e nel frattempo le vinti ci sono anche ricette, perché è una rivista a tutti gli altri, io la compravo per l'having gadget che davano in omaggio, e poi c'erano delle storie di, dopo di questo, anzi di Minnie, tecnicamente, considerate anche che io sono stata, e non vi li faccio vedere perché non ha senso, ma io sono stata abbonata per un paio d'anni a Topolino, ce li ho metto in Topolino, quindi ho una colonna o pile infinite di Topolini gialli in libreria, che nemmeno vi prendo perché sono tutti uguali ovviamente, o meglio le copertine sono diverse, per esempio lo stesso concetto, sono stata abbonata per anni e due annetti, o forse tre, e quindi sono tanti Topolini che si sono accumulati, e quindi ce li ho, mi ricordo anche di avere qualche speciale, non mi ricordo il numero in cui gli anni sono usciti anche degli speciali, e io li ho tutti, perché appunto ero abbonata, quindi a prescindere i miei arrivano tutti a casa, e sono stata una accanitissima lettrice di Topolino per anni, penso per tutte le medie, forse quintale, prima media, seconda media, comunque a quel periodo lì, è un calentissimo lettrice di Topolino, manco, cioè, mi li divoravo subito, e poi dovevo aspettare che arrivasse quello nuovo per posta, quindi anche quelli sicuramente fanno parte della mia fumetti collection, comics collection, andiamo avanti, ho qualche numero di questo, del Real Life, e allora, Real Life erano delle storie fumetti, che mi piacevano molto, sia come disegno, perché per me il disegno è sempre importantissimo, e poi la storia mi piaceva, perché a me piaceva molto le storie di ragazze, cioè, ovviamente, amo vedere, ma mi devo preoccupare i disegni, e io amo vedere donne, ragazze, disegnate, più che maschi, insomma, che, comunque, parlare della favola, questo fumetto, praticamente la storia, è che delle ragazze, da quello che ricordo, almeno dalle scuole me, gli sono passati otto anni, queste ragazze descrivano, immaginano, lo ragazzo ideale sui social net, cioè, digitale, comunque, e poi se lo trovano nella vita vera, e questa cosa è inquietante, non si capisce perché, come, cosa è successo, eccetera, eccetera, e ho il numero uno, il numero due, si è perso, poi il numero tre, il numero quattro, il numero cinque, il numero sei, il numero sette, di Real Life, questa di Real Life è un'altra colana, che è per cui seguivo, ho assolutamente adorato, poi io amo, da morire questo formato, così, di fumetti, da edicola, proprio, ho una passione incredibile, mi piaceva tantissimo, continuo con i fumetti di, questo formato qua, abbiamo, ah, ecco, per il periodo delle medie, io mi sarò ossessionata con i fumetti di supereroi, però, rigorosamente, supereroi, donne, femmine, piace i disegni delle donne, non so perché, e quindi abbiamo, qui dentro, questa colana di Wonder Woman, abbiamo, l'uno e il due, qui, abbiamo, l'uno e il due, che subito rimetto nella confezione, ricordo che prima un certo periodo, o riandavo a comprare l'Etna Comics, oppure c'era una, aveva aperto una fumetteria vicino a casa mia, che faceva anche cibo, e io, era tipo caffetteria, fumetteria, e avevano un sacco di frutti di supereroi, trovavo sempre quelli che volevo, e quindi, io già andavo, prendevo sempre un waffle, e poi, comprovo qualcosa, e quindi, il numero uno, il numero due, sempre la stessa collana, il numero tre, il numero quattro, il numero cinque, il numero sei, e poi, a un certo punto, diventava sempre difficile seguire, il filo, il collane, e tendevo un po' ad abbandonarle, diciamoci la verità, poi, abbiamo, questo numero uno, di Suicide Squad, Harley Quinn, marzo 2017, dentro, ci sono degli adessivi, comunque, mi era fissata, che, appunto, mi piaceranno, i fumetti di supereroi, o per queste, femminili, e ho, appunto, questo numero uno, e il numero due, aggiungerei, che, ho, anche, un fumetto, a Roma, di, eh, sempre, di Harley Quinn, e del Joker, eh, sto pensando, che, se questo video, va bene, magari, io faccio proprio la parte due, con quei tre fumetti in croce, che ho a Roma, però, ecco, magari, non mi piace la parte due, quindi, ecco, la parte due, Poi, qui, abbiamo, eh, dei numeri random, cioè, il nove, il dieci, che l'undici, perché, poi, era difficilissimo, trovare i numeri giusti, mamma mia, inizia alle serie, inizia alle serie, era complicato, di, della potente Thor, quella addirittura Thor, al femminile, e, quindi, la potente Thor, non la nove, e, la potente Thor, numero dieci, e, la potente Thor, numero undici, e, poi, abbiamo, un numero random, dei nuovi, Sign Avengers, qui, io, di base, dove, vedevo, personaggi femminili, mi innamoravo, e, infatti, questi, sono, tutti, personaggi femminili, in copertina, non è un caso, e, poi, sempre, come, ehm, super feroi, abbiamo, questo, il nuovo, come potete sentire, l'andami, è, cartonato, di, eh, di, eh, Miss Marvel, quindi, direvamo, di sì, qui siamo Marvel, che, per anni, mi sono rifornita in quella stessa suddetta fomenteria, e, c'è questo, e, c'è questo, con disegni molto diversi, ma, non molto diversa, mi piace che sia colorato, perché io amo i fumetti molto chiari, molto colorati, non amo i fumetti tanto scuri, e, oggi, la tendenza è quella di colorare tanto la pagina, tutta scura, e, non mi fa impazzire questa cosa, però, ehm, non mi, non mi piace la matita e il disegno, non mi fa impazzire, non mi piace il colore, questo fumetto in particolare, ovviamente stiamo parlando di un fumetto non solo di una mano, non so, e questo significa che deve, deve piacermi anche la mano, valuto anche la matita, valuto anche i colori, valuto l'elemento visuale, che ovviamente è un fumetto tanto importante, e, qui abbiamo, storie d'amore con i supereroi, sembrano arvel, chiaramente, mi ricordo che mi piaceva molto la prima, che era con Spider-Man, in realtà era una racconta, vediamo se, la regna eterna dell'amore, San Valentino di Sangue, incontri, l'amore fa male, il teono più grande, la bellezza scomparsa, quindi sono sei storie, di supereroi, di, eh, storie d'amore, il che significa che sono, presi da altre collane, sono storie, raccolte, è una raccolta, di storie, presi da altre collane, in cui c'è un elemento romantico, è messo insieme, in questo volume qui, poi qui abbiamo dei fumetti a cui tenevo tantissimo, a questo soprattutto, di questo mi sono innamorata per un sacco di anni, sono stata pazza per questo, di Supergirl, e io me ne ho innamorata ovviamente di tutti i supereroi, chiunque legga lo sa, e ci sono 800.000 collane diverse, a oggi, a me piaceva in particolare questa, di Supergirl, mi, mi faceva impazzire, mi era piaciuta veramente tanto, soltanto che fecero il numero uno, e basta, credo che sia uscito il numero due, dopo anni, però, quando lo volevo io, per due o tre anni, ho cercato come amata, e non c'era il numero due, comunque io, impazzita per questo fumetto, adorato, amato e straamato, poi io, esco pazza, appunto per la rappresentazione femminile, delle supereroine, con quei corpi magnifici, bellissimi, con quei costumi, da supereroine, cioè veramente, amo quel tipo di insegno, poi qui, abbiamo quattro, no tre, della stessa collana, di Wonder Woman, perché poi, io ero innomorata di questo, di Supergirl, ma Supergirl non si trovava, e quindi ho ripiegato, su Wonder Woman, e abbiamo, il numero uno, Diana, la mazzone lotta, per scoprire la verità, su se stessa, il numero due, che si titola, all'inferno, è il numero tre, vero, al cospetto, di Nuvi Dei, a proposito, cerco un segno, ho una grandissima voglia, di rileggerlo, sinceramente, di rileggere un po', di questi fumetti, che ormai, non leggo da un paio d'anni, non riprende mano, da un paio d'anni, e dovrei sicuramente farlo, ma come al solito, manca sempre il tempo, prima o poi, mi ci dedico, giuro, poi, sempre, per la serie, bellissime donne, bellissimi, di segni, abbiamo Bombshell, quindi, proprio, ok, donne, di una bellezza costruosa, cioè, se vuoi ammazzarti, d'autostima, abbiamo qua Bombshell, ricordo che la storia, non mi aveva convinta, del tutto, perché, ovviamente, leggendo molte cose, un po', senza capone in coda, cioè, senza la storia, poi io, la storia dopo, è decontestualizzato, però, e mi piacerà comunque, per i segni, e non ho comprato per quello, diciamo, per concludere, con ciò che mi ha, appassionato, durante gli anni, o come momenti, abbiamo, quelli di, Arci, e ho, quattro, in particolare, e, io, ho, due, tre, quattro, chiaramente, e, sono, in fine, di Arci, perché, la serie, Riverdale, che, tra i tempi, andava, andava al guanto, e, stiamo parlando, del, del 2017, e, è, in realtà, basata su, dei momenti, che non sono nemmeno questi, sono dei momenti, non mi ricordo, dai disegni, direi, a, 50, non, voglio sperare, cavolate, quindi, non video gli anni, non lo so, di chi anno sono, però, questa, è, chiaramente, non l'edizione originale, è, diciamo che, è, 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 uscire, i telefoni, e che mi piaceva molto, di cui, appunto, comprai, il, volume, 1, e, volume, 2, molto meno, trash, i, volumetti, rispetto, non sei di fuoco, il, volume, 3, e, il, volume, 4, tutti, tutti questi, i fumetti, mi riportano, ogni, solo il tempo, e, poi, questo, libricino, che, invece, è, il, prequel, ufficiale, della serie, tv, e, infatti, i, sono, disegnati, come, i, con le facce, dei, degli, attori, e, chiaramente, nei, in questi, i, in questi, in questi, non sono le facce, degli attori, sono le facce, del fumetto, dei personaggi, del fumetto, e, come abbiamo questi, per concludere, i, arci, poi abbiamo, un fumetto, che è un attecchietto, traffic novel, eh, di, di, altro genere, comprato per, scrivere, la, di terza media, la, di terza media, io ho portato, il giornalismo, l'italiano, e, l'afghanistan, e la storia, di Femmare Grazia Kutuli, una giornalista, che è stata, uccisa, in Afghanistan, da intermani, e, nel, nel 2001, muore, in un attentato, e, e, quindi, io ho fatto, la tesina, su quello, di arte, ho portato, del fomento, e, eh, di italiano, giornalismo, poi, la storia, della giornalista, il, 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 l'Afghanistan, e, vabbè, collegamenti vari, comunque, questo, Dove la terra brucia, è un, 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 racconta, la, da, matica, storia, appunto, di, mare, grazie a Cotugli, e, quindi, rimane, tre miei fumetti, Poi, abbiamo, questo, che devo ancora leggere, che mi ha regalato, quest'anno, la mia mia regga, in realtà non ho letto, per un motivo molto semplice, che, che, è strano, però, a me, piace leggere, determinate cose, in determinati periodi, dell'anno, questo me lo sono, conservato, per, l'inizio, della, dell'università, a Roma, è stata una scelta, fatta a proposito, ed è l'adattamento a fome, di Miti del Nord, di, Milly Keiman, Miti del Nord, di Keiman, è uno degli, i più preferenti, in assoluto, da sempre, e per sempre, lei lo sa, chiaramente non è un caso, che mi ha regalato, questo momento, e me lo ha regalato, in realtà, mi sono con il massimo, sapete che, ho una passion, infinita, per l'ambito, in generale, per l'ambito, in generale, in particolare, e, Sono stata varie volte tentata di iniziare a leggerlo, poi mi sono frenata perché voglio leggerlo quando ritorno a Roma per l'inizio dell'Università del Nuovo Anno Academico, e quindi è stata una scelta strategica, però il momento si avvicina, quindi questa sarà sicuramente una delle mie prossime letture. Poi ho comprato l'anno scorso questo momento qui Tor, per cui avevo altissime aspettative perché è ambientato, diciamo, perché è un po' dei chicchi, ed è, ecco qui, Norvegia, settimo secolo d.C., i chicchi da poco si sono insediati in piccoli villaggi molto lontani dei riorni, a pochi metri dal villaggio, una ragazzina, un po' più adolescente, è già solitare, accompagnata dallo scampiccio dei suoi stivali, scampiccino dei suoi stivali, sulla città di l'invernale, e chissà, per inciso, la ragazza che ti vuoi riporto, non tanto il racconto, o la storia, o i disegni, perché l'ambientazione della storia dei disegni, colori, mi è piaciuto tutto, ciò che non mi è piaciuto per niente, dell'ultimo per cui non l'ho acquistato, ho continuato la serie, è che è un po' delanziale, nel senso che spesso ci sono delle trovate stile 2000 cringe, 2016, che non mi piacciono per niente, che secondo me è un'evitabilità che avrebbe avviso tutto, molto più bello, ecco, cioè questa, non so, la quarta parete, non so se poterla così alto, però, nemmeno la quarta parete è proprio il fatto intercalare, di vedere pietologia norena, i vichinghi mischiati a cringe, dei sojan, c'è qualcosa che non mi ha convinto, e per questo che non ho porto continuato la serie, invece un momento che mi è piaciuto tantissimo è stato questo, Dandelion, questo ha dei disegni, ragazzi, che sono una coccola, per me che amo, amo tutte le chiavi, e questa è la felicità assoluta, spero, perché alla fine, esatto, ci sono, io poi amo le cose un po' fantasy, e questo è un po' anche un po' tutto lo stile, è una roba fantasy, proprio più che fantasy, proprio da favola, perché la protagonista della storia è questo Dandelion, che è questo esserino piccolino, e questo ha anche un po' un po' il giorno d'altro, un po' l'altro, che ti passa un soffione, insieme al suo... è un personaggio che io amo fighissimo, ovviamente, fino a che, anche se disegnato, infatti, mi ha detto, non posso innamorarmi di un personaggio disegnato, ecco, che è una specie di lupo, no lupo, comunque è troppo figo, è un po' un buonazzo che ho disegnato. Comunque parla di gatti, degli animali, ed è fantasy, questo è il suddetto personaggio figone, vi dicevo in un po' il fumetto, no? Ma poi vedete i colori, l'ambientazione, il tipo di disegno, questo è proprio ciò che piace a me da morire, e praticamente è tipo un po' il concetto di trilli, per cui un bambino, in quel caso le fate, nascono da una risata, quindi poi il bambino esprime un desiderio, e nasce il Dandelion, che deve trovare il modo di esprimere il desiderio, il bambino felice, o una persona felice, però è tutto molto complicato, è poi un po' una riflessione sulla vita, la morte, il senso della vita, però è bella e leggera, non lo so ragazzi, tante cose, ma mi è piaciuto molto. Spero di non dimenticare niente, ci sono, dopo tutti i fumetti che erano a Roma, a memoria, Wings, i tre volumi, più quello di vent'anni, Witch, tre volumi, Harley e Joker, e credo nient'altro, ma non ne sono sicura. Comunque, vediamo prima come va questa parte 1, che di base è il grosso della mia comics collection, io non avevo niente di che, però, magari con un mondo lo poteva interessare, per me sono tanti ricordi e vibes positive, per me è tutto associato a dei ricordi molto belli. Quindi ragazzi, io adesso vi ringrazio per aver scelto di guardare questo video, vi saluto e vi dico che ci vediamo direttamente nel prossimo. Ciao a tutti!